Ciao a tutti, primo incontro su Ludovico Areosto. Mi sembra doveroso cominciare dalla vita, sempre seguendo quella che è la presentazione in PowerPoint che poi troverai sulla sezione Materiale Didattico del Registro Elettronico. Perché? Perché ci dice qualche cosa di importante su quella che sarà poi l'opera principale che poi andremo affrontando. Nasce nel 1474 a Reggio Emilia da una nobile famiglia e già dieci anni più tardi si trasferisce a Ferrara. Ferrara a quel tempo, siamo alla fine del 1400, è ovviamente la sede degli est, una famiglia di antichissima data, una nobile famiglia di antichissima data che appunto domina, tra virgolette, parliamo di maniera storicamente impropria, domina su questa città. In contemporanea, e questo è importante sempre vedere il contesto in cui si muovono i nostri autori, nel 1492 muore Lorenzo De Medici, Lorenzo il Magnifico, che sappiamo essere non uno dei tanti personaggi politici della storia italiana, ma in quel momento il vero ago della bilancia, della politica italiana, forse europea. La sua morte, evidentemente, destabilizza quello che è l'ordine, l'equilibrio che si era creato fra le potenze in gioco nell'Italia del tempo e questo ovviamente apre a quelle che saranno le grandi problematiche del 1500, problematiche storiche, politiche, sociali, possiamo dire in qualche modo, comincia da questo momento a quella che è la decadenza un po' della politica italiana, possiamo quasi dire il decentramento, la periferizzazione della politica italiana rispetto al resto dell'Europa. Ma questo ovviamente non è un argomento che ci interessa, anche se vedremo. Avrà una certa influenza sulle ultime edizioni, l'ultima edizione pubblicata postuma alla morte dell'autore dell'Orlando Furioso. Nel 1494, quando Carlo VIII, re di Francia, scende in Italia, entra a Reosto specificatamente alla Corte degli Este ed è in quel frangente che conosce un personaggio dal punto di vista letterario molto rilevante, che è Pietro Bembo. Lo ricordiamo nel 1525, Pietro Bembo scrive le prose della volgar lingua, un'opera fondamentale per la letteratura italiana, perché diventa un po' quasi un maestro di stile e diventa quindi la sua opera un modo di confrontarsi con la realtà letteraria del tempo. Cioè, chi vuole scrivere poesia deve seguire, dopo il 1525, dopo quest'opera di Pietro Bembo, chi vuole scrivere poesia deve seguire quello che è il mono-stilismo e il mono-linguismo di Petrarca, chi vuole scrivere in prosa deve seguire la prosa di Boccaccio, in particolare ovviamente la Quernice e le novelle più nobili, in qualche modo, del Decamerone. Nel 1503 entra in particolare al servizio del Cardinale Ippolito d'Este, perché ci fermiamo su questo dato così che sembra da fuori piuttosto irrilevante, perché in realtà Ippolito d'Este è il dedicatario del Furioso, lo vedremo nell'ottava, terza e quarta dell'Incipit del Premio, noi troveremo questo personaggio, questa Erculea Praole, figlio di Ercole d'Este, a cui viene dedicata l'opera, ma lo vedremo dettagliatamente nell'incontro dedicato al Premio. Nel 1504 riceve gli ordini minori, e ti rimando all'incontro su Petrarca, lì dove si spiega un po' più dettagliatamente cosa vuol dire ordini minori, che sono gli ordini che in qualche modo precedono l'ordinazione sacerdotale. Era un modo per cominciare la carriera, chiamiamola così, ecclesiastica, e ti assicurava a quel tempo una rendita economica, in cambio c'era ovviamente da prestare dei servizi alla comunità ecclesiastica. In qualche modo eri impegnato a preservare quella che era la tua castità, a fare voto di castità, per poter seguire appunto la cura di anima, che in parte ti era affidata. Non è un sacerdote, non può celebrare Messa, non può ricevere le confessioni dei fedeli, però è già un inizio. Vedremo questo, mi sono informato così in questi dettagli, perché dopo vedremo che farà altre scelte esistenziali a Riosto, come altre scelte esistenziali aveva già fatto Petrarca. Del 1504 è proprio l'inizio della composizione del fuorioso. Entrare a corte di Yes significa non semplicemente stare lì, ricevere vitto alloggio, partecipare ai banchetti, magari essendo famoso come letterato, ogni tanto scrivere qualche poesia. Nel caso specifico di Riosto significa anche prendere sulle proprie spalle degli incarichi politici e ambasciatore nel 1509 a Roma, presso Papa Giulio II, il Papa che entra in contatto con Michelangelo, Papa importante, a nome degli esteri, quindi ambasciatore, porta le istanze politiche di questa antica e importante, anche per la Chiesa famiglia. Per cui, ripeto, non è soltanto un cortigiano, come lo possiamo nel nostro immaginario intendere, ma è un personaggio famoso, un personaggio importante, che assume delle responsabilità politiche di un certo rilievo. Del 1516, finalmente, è la prima edizione dell'Orlando fuorioso, che però noi non leggiamo, perché viene rimaneggiata più e più volte. Nel 1517, quando Lutero pubblica le sue 95 tesi, a colui si rifiuta, a Riosto si rifiuta di seguire il cardinale Ippolito in Ungheria e passa al servizio di Alfonso d'Este, un altro nome importante, con altri pesi, lo troveremo anche nella vita di Tasso, un altro Alfonso d'Este. Nel 1520 comincia il conflitto tra Carlo V e la Francia cioè le varie vicissitudini che portarono a diversi conflitti molto molto pesanti per l'Europa, e pubblica le satire, di cui appunto ci fermeremo in questo stesso incontro poco più tardi. Nel 1521 è la seconda, ancora provvisoria, alla luce di quello che avverrà, edizione del fuorioso. Ancora nel 22 è inviato come governatore in Garfagnana, in provincia di Lucca. Ancora insisto su questo, cioè non è un cortigiano come lo intendiamo, come lo si può intendere normalmente, è un uomo a cui gli ester affidano degli incarichi di un certo rilievo, per esempio appunto governatore, non è appunto un semplice funzionario, un burocrate di palazzo, è un uomo importante che evidentemente aveva delle capacità, oltre alle indubbie competenze letterarie, delle capacità politiche di un certo rilievo. Dopo tre anni, e quindi in concomitanza con la pubblicazione di Bembo, torna alla corte di Ferrara, quindi per tre anni è governatore in Lucca, e si dedica integramente alla edizione della finale del fuorioso. Proprio mentre avviene il sacco di Roma, che è un evento che dal punto di vista politico è rilevante evidentemente, ma è un evento dal punto di vista dell'immaginario collettivo europeo, molto importante, ecco, proprio in concomitanza con questa data, sposa secretamente Alessandra Benucci-Strozzi. È importante questo evento per due fatti almeno, cioè da una parte perché abbiamo detto che prima aveva inaugurato, aveva iniziato quella che era la carriera ecclesiastica, che evidentemente è in contrasto con questo matrimonio che non a caso rimane secreto. dall'altra Alessandra Benucci-Strozzi la troveremo nella seconda ottava del fuorioso, in quanto è la musa, ma le virgolette qui sono d'obbligo, è la musa ispiratrice dell'areosso stesso. Quindi un personaggio importante dal punto di vista letterario, dal punto di vista esistenziale. Del 32 è la terza edizione del fuorioso, che è quella che normalmente si legge, non è l'ultima perché continua a lavorare alla cremente alla sua opera, aggiungendo alcuni canti che rimangono inediti, che vengono pubblicati soltanto postumi, appunto, dopo il 1583, quando muore a Ferrara. Sono cinque canti che vengono aggiunti nella edizione che si può trovare in commercio, però appunto sono cinque canti che hanno delle caratteristiche un po' particolari, sulle quali magari ci fermeremo in un altro incontro. I luoghi. I luoghi della vita, appunto, facili da vedersi, appunto, nasce a Reggio Emilia, a Ferrara, vive la maggior parte della sua vita, missioni diplomatiche a Roma, missioni politiche in Garfagnana, nel 1500, in primi anni del 1500, e lo troviamo proprio in ambienti fiorentini. Ecco, in questo senso c'è un collegamento dato con la famiglia Medici, ma in questo caso la città centrale della sua esistenza è Eresta Ferrara. Vediamo appunto le esperienze. Abbiamo già detto, Uomo di Corte è un letterato, è il classico esempio di letterato di corte al servizio diretto con incarichi politici in diretta alla famiglia d'Este. prima Ippolito e poi Alfonso. Però appunto è importante sottolineare questo fatto che non ebbe soltanto così un ruolo così d'appendice all'interno della corte, ma ebbe un ruolo politico anche di un certo peso. Ma non vive in simbiosi con la corte. La vita di corte sta stretta, in qualche modo non gradisce questo ambiente della corte degli Este. Non sappiamo molto bene, ci spiega qualche cosa in alcune sue opere, però non sappiamo se c'erano stati dei dissapori, l'invidia, il pettevolezza, quello che sia, però l'ambiente di corte gli sta un po' stretto, lasciano così in senso di maniera un po' impropria. Ce lo spiega nella terza satira, in generale nelle satire, ma nella terza satira, ci spiega che appunto quello che è l'ideale, almeno considerato tale dalla maggior parte degli uomini, l'ideale è quello di vivere in corte, vicino ai potenti, al servizio dei potenti, e per lui invece lo ritiene, qua dice a servitù rivolgo, lo ritengo invece una forma alternativa di schiavitù. Andiamo a vedere cosa ci dice, proprio nella terza satira, che troverai appunto sul nostro libro a pagina 719, ci dice chi brama onor di sprone e di capello serva re, duca, cardinale o papa? Io no, che poco curo, questo e quello, cioè chi vuole essere un cavaliere o un prete di rilievo, un personaggio importante in queste due carriere che evidentemente erano viste quasi come parallele per diventare un nome, per diventare famoso, ecco, serva, ed il verbo è volutamente spregiativo, serva un re, serva un duca, serva un cardinale o direttore un papa. Io no, posizione fortemente avversativa, un parlamo personale di prima persona messo lì all'inizio del verso con una pausa, una forte pausa dell'andica sillaba, e lì si sente, io no, io non voglio questo, non mi preoccupo poco e di questo, cioè della cava, della corte di cavaliere, della carriera di cavaliere, come anche mi cura poco, mi preoccupo poco della carriera di ecclesiastico, non mi interessa. In casa mia, ecco lo dice esplicemente appunto, in casa mia mi sa meglio una rapa che io cuoca o è cotta su uno stecco ma in forco e mondo e spargo poi di eccetera e saba più che all'altrimenza, invece un torno, una starna, un porco selvaggio. Cioè una, ovviamente il paragone, ad esempio, è culinario, mi interessa più, mi preoccupa più, mi sa meglio, che bella come espressione, mi sa meglio una rapa che io mi son cotto personalmente condendola con un po' di, appunto qua ci dice aceto, serena per direttura cucita, cucinata in maniera semplice nel, appunto, quasi nel camino di casa, piuttosto che invece stare all'altrui mensa, ecco, presso il tavolo dei potenti, evidentemente faccio un ricevimento agli esterni anche troppo velato, e lì poter mangiare cibi succulenti, pregiati, detto orto, starna o cinghiale. E così è lo stesso dormire sotto una vil coltre, cioè una coperta semplice, piuttosto che una coperta di sede o dono, beh, per me è uguale, l'importante per me è dormire. Ecco, è un intellettuale che si trova un po' stretto in questa, in questa, in questo ambiente di corte. C'è ovviamente dietro uno dei grandi punti di riferimento dell'estetica, ma dell'arte in generale, del 1400-1500, che è Orazio, che effettivamente parla di una rusticitas, di una semplicità di vita che lui ambisce, no? Dai tanti onori che gli vengono offerti, lui sempre si rifiutò di ricoprire cariche politiche particolari, no? Ecco, e di questo ne scrive varie volte Orazio nelle sue, guarda caso, satire e altre opere che troviamo di questo autore latino. Altre opere minori. alla corte di Ferrara abbiamo detto che conosce Bembo, che influenza dal punto di vista linguistico il Furioso, l'ultima edizione, quella che leggiamo. Scrive commedie, scrive commedie ed è debitore in questo della commedia Plautina, il colpo di scena e il servo Scallitus, l'intrigo così un po' piccante fra un giovane e una giovane a discapito di un anziano un po' babbeo, ecco, queste sono in sintesi le trame delle commedie Plautine e queste sono i modelli che ha Ariosto nella composizione delle sue commedie. Come anche abbiamo già citato le satire a livello di contenuto questa volta le vediamo un po' più in generale e seguono un altro grande modello che viene dalla letteratura latina che è Orazio. Quindi ancora una volta insistiamo nel dare spessura a questa espressione di Benedetto Groce che ha definito il 400 come il secolo senza poesia evidentemente l'Ariosto si muove già in un ambito che è quello del 1005 ed è sicuramente un grande poeta e ciò che scrive è sicuramente grande poesia però è pur vero che i punti di riferimento non sono mai originali di questi autori abbiamo visto quanto sono debitori i vari Lorenzo il Magnifico Angelo Poliziano in parte abbiamo visto anche qui in questo caso Ariosto stesso quanto sono debitori rispetto alla letteratura latina per cui è un secolo senza poesia dicevamo forse va aggiunto senza poesia originale ma possiamo concordare con il giudizio di Croce che definisce appunto questo un secolo povero di novità poetiche gli argomenti trattati delle satire in parte li abbiamo già detti già esaminati la condizione dell'intellettuale a corte l'aspirazione ad una vita quieta ed appartata il capos di matrice epicorea il giardino con l'angolo appartato e la follia quindi cioè in più anche un'accusa possiamo dire ai suoi colleghi di corte perché appunto i biomi sono folli nel inseguire questi scopi esistenziali piuttosto circoschetti Ariosto manifesta proprio in questo esatto un atteggiamento che è molto repressivo lo fa in maniera ironica l'abbiamo in parte esaggiato con quel primo con quel esempio che prima abbiamo portato con quel breve brano tratto dalla terza satira in cui appunto c'è l'esposizione del principio appunto non mi interessa la carriera di cavaliere né quella di ecclesiastico a me basta mangiare una rapa cotta personalmente nel cammino di casa ecco in maniera ironica ed è questo atteggiamento un atteggiamento riflessivo sulle quelli che sono gli schemi tra virgolette di vita degli uomini che ha attorno a sé in maniera ironica ecco questi qua sono degli aspetti la riflessione sul mondo e sulle aspettative che gli uomini hanno in relazione all'aumento degli ideali di vita con la propria ironia trattati con una certa ironia che non diventa quindi un'accusa violenta moralistica ma è una ironia sottile a volte nei confronti una presa in giro una parodia in qualche modo di quelli che sono le grandi preoccupazioni degli uomini questo lo rende certamente un lo rende certamente un autore di rilievo che su quale conviene fermarsi nella sua opera più importante che è ovviamente l'Orlando furioso alla prossima che è